Il pronto soccorso dell'ospedale Mayer si sdoppia con l'allestimento di due container per affrontare la stagione invernale e gestire al meglio la separazione dei pazienti con sintomi sospetti da covid e potenzia anche i tamponi. Queste le misure adottate dall'ospedale pediatrico fiorentino per affrontare la seconda ondata di coronavirus in modo da garantire la massima sicurezza per tutti i piccoli pazienti. Tra le strategie messe in atto per difendere l'ospedale è l'aumento della capacità di effettuare i tamponi anche negli orari notturni. A visitare la nuova struttura il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, l'assessore alla salute Simone Bezzini e il rettore dell'università di Firenze Luigi Dei. Devo dire che una volta di più l'azienda Mayer ci meraviglia perché con l'amministratore delegato Zanobini arrivare qua a vedere il nuovo pronto soccorso, capire che dietro questo c'è il lavoro, la sensibilità e l'esperienza di uomini e donne che hanno avuto la capacità di dare ai nostri bambini le condizioni sempre migliori per poter vivere quello che è un problema di salute che li ha portati qua, è un elemento di soddisfazione. Una nuova struttura quindi e una nuova organizzazione degli spazi capace di accogliere i bambini anche nell'emergenza Covid. La costruzione, l'organizzazione nuova del pronto soccorso insomma che dà il senso di un'organizzazione sanitaria che si pone l'obiettivo di organizzare la convivenza con livelli importanti di coronavirus, cosa che ci accompagnerà sicuramente per diversi mesi e in virtù di questo si costruiscono modelli organizzativi in grado di produrre una maggiore sicurezza per i pazienti, per le loro famiglie. Tra le ultime sperimentazioni del Mayer anche Uffa, un kit con un tampone nasale fai da te messo a punto dal laboratorio di immunologia, semplice da effettuare senza il bisogno di personale sanitario e pensato per i più piccoli.